In questo video vedremo come inserire in Classroom un compito a partire da un file di Drive che non possediamo e che quindi deve essere editato, deve essere creato da zero. Allora, scegliamo come al solito la nostra classe di prova, ecco qui, clicchiamo su più, cioè aggiungi e poi crea compito. Allora, il compito questa volta sarà di filosofia, poniamo, ed è un compito di questo tipo. Poniamo una relazione il cui titolo è Heidegger tra Emanuele Severino e Vattimo. La descrizione. La descrizione in questo caso per rapidità ora la immaginiamo semplice. E poniamo che sia delinea le differenze tra l'interpretazione di Heidegger da parte di Severino e di Gianni Vattimo. Scadenza, poniamo che sia un lavoro piuttosto complesso, poniamo un mese, 16 di novembre. In questo caso abbiamo detto, noi non possediamo il file di Google Drive da allegare. Quindi se io clicco su Drive, naturalmente ho un pannello di controllo da cui scegliere un file, non da cui creare un file. Quindi in questo caso questo pannello non mi serve. Devo andare su Drive, ecco qua, questo è il mio link a Drive, e devo crearne uno. Vado su Nuovo, Nuovo, Documenti Google. Mi si apre una pagina e in questo caso il documento è completamente vuoto. Cominciamo a scrivere il titolo e scriviamo Relazione su Heidegger. In questo caso il titolo è abbastanza sintetico. Poniamo che in cima si scriva il nome della nostra scuola, quindi clicchiamo in cima il documento, scriviamo Liceo, Città di Piero, Anno scolastico 2015-2016, e poi immaginiamo di voler giustificare al centro, e poi scriviamo semplicemente Relazione su Heidegger. Ora, qui naturalmente si può modificare tutto il testo, il font, la grandezza e tutto il resto che ora al momento non ci interessa. Ora, in questo caso possiamo anche inserire una foto dal menu Inseriscio, semplicemente un copia-incolla da internet. Ora, immaginiamo di dare delle indicazioni ai ragazzi. Quindi, indicazioni. 1. Citare le opere del filosofo tedesco nella relazione. Questa è la prima indicazione, vale a dire, diciamo ai ragazzi che qualunque loro riflessione dovrà passare per una citazione, in italiano o non, dell'opera in originale del filosofo tedesco. Secondo, citare le opere di Severino e Vattimo in relazione al tema. Anche questa è un'indicazione, naturalmente, molto simile all'altra. Possiamo poi dare dei suggerimenti. Quindi, il suggerimento potrebbe essere di seguire i video. Immaginiamo di dare due video. Io li ho già scelti. Uno è questo. Ecco qui, Emanuele Severino Heidegger e la metafisica. E quindi, semplicemente copio questo link, lo inserisco nel mio documento. Ecco qua. In più avevo scelto un altro video, che è questo. Questo fa parte del Caffè Filosofico, quella collezione dell'Espresso di qualche anno fa sul tema della filosofia. E la lezione magistrale su Heidegger è tenuta appunto da Vattimo. Prendo il link, lo copio e lo inserisco nel modello della relazione. Ecco, in questo caso, quest'operazione dei video è piuttosto ridondante, perché potrò farla anche all'interno di Classroom. In ogni caso l'ho inserita anche qui. Posso dare eventualmente altre indicazioni, come il numero di battute e tanto altro. Questo sarà il... ecco, poi scriviamo Svolgimento. Da qui inizierà il lavoro dei ragazzi. Questo dunque è il documento che io non avevo su Drive e che ho creato appositamente per i ragazzi. Non c'è bisogno, come sapete, di salvare mai su Drive, perché è tutto salvato in tempo reale. Infatti, in cima è scritto tutte le modifiche vengono salvate automaticamente. A quel punto non mi resta che chiudere questo documento. Mi ricordo che si chiama Relazione su Heidegger. Quindi ora io torno al mio Classroom, che è questo. Ora sì che posso cliccare su Drive e scrivo... ecco qui. Posso scrivere Heidegger qui oppure come ultimo documento, è stato già aggiornato in tempo reale, e c'è Relazione su Heidegger. Quindi la allego, clicco e vado su Aggiungi. Eccola qui. Questa è la relazione, il modello di relazione che ho appena creato. Tant'è che se la clicco, ritrovo esattamente il file che ho compilato pochi istanti fa. A quel punto, tutto il resto già lo conosciamo, la scadenza è fissata. Gli studenti devono lavorare ciascuno sul suo file, quindi menu a tendina, crea una copia per ogni studente. Ora, video. Ecco, anche qui posso di nuovo inserire i video che abbiamo inserito prima. Lo rifaccio rapidamente, clicco su YouTube, URL, vado a riprendere i link inseriti prima, li reinserisco, ecco, Aggiungi. Lo faccio anche nel caso di Vattimo, e quindi faccio di nuovo YouTube, Aggiungi da indirizzo, incollo. Potrei anche fare una ricerca di video da qui senza inserire l'URL, ma nel nostro caso io ho già inserito l'indirizzo, quindi è più pratico inserirlo anche qua e lo aggiungo. Se avessi anche un link testuale potrei qui inserirlo tramite AllegaLink, in questo caso non c'è bisogno. Il documento dunque è pronto, il titolo è stato scritto, la spiegazione, la descrizione del compito è stata scritta, la data è stata fissata, la relazione che non avevo e che ho creato appositamente per gli studenti è stata inserita, così come è stata inserita l'opzione di creare una copia per ogni studente, e a quel punto non resta altro che scegliere le classi a cui attribuire il compito. Quindi solito menu a tendina, scelgo la mia solita classe di prova, ho terminato tutta quanta la richiesta di consegna, quindi posso cliccare su assegna. Se non avessi terminato potrei come al solito cliccare su salva bozza, e a quel punto nulla verrebbe pubblicato, però potrei salvare quanto ho fatto finora per rimetterci le mani. In questo caso è tutto completo e quindi clicco su assegna. Ora vedrete che nello stream, ecco qui nel flusso di lavoro, è presente questo compito. Qui c'è scritto naturalmente zero completato perché lo abbiamo appena fatto, mano a mano che i ragazzi lo completeranno, qui aumenteranno i numeri, naturalmente qui per inverso i compiti di chi non ha ancora terminato il lavoro. Come al solito i tre puntini servono per muovere in cima il post, in questo caso non ci serve perché già in cima, modificarlo, eliminarlo del tutto. Quindi in questo caso abbiamo visto l'uso di Classroom per la creazione di un compito a partire da un documento che non abbiamo, ma che abbiamo creato su Drive e appositamente inserito nella richiesta di consegna.